Purtroppo il vicepresidente del Core con delle Marche, che è l'ente che dovrebbe sovraintende alla corretta comunicazione, si è reso responsabile di frasi inqualificabili e irripetibili contro questa ragazza che ha pagato col suicidio i propri errori, la propria condizione. A queste frasi inqualificabili pubblicate su Twitter, riprese da tanti organi di informazione, abbiamo chiesto al vicepresidente di dimettersi, lui non si è voluto dimettere, siccome io ritengo che rispetto a certe frasi che lui ha utilizzato contro una ragazza vittima di questo sistema, di un uso distorto del web, ho chiesto il fatto che lui non si volesse dimettere, mi ha obbligato a utilizzare gli strumenti regolamentari che esistono nella legislazione della Regione Marche per determinare comunque le sue dimissioni. Le sue dimissioni potevano essere chieste solo attraverso la mia rinuncia alla Presidenza, per cui io mi sono dimesso immediatamente dalla Presidenza e questo ha provocato le dimissioni dell'intero organismo e martedì 20 il Consiglio regionale provvederà di nuovo alla rielezione del nuovo comitato. In futuro in prospettiva il Corecom potrebbe comunque inserirsi in un discorso legato soprattutto al controllo dei social media? Ma guardi, questo della web reputation, del web, dei social media è un discorso grande ed è fondamentale perché i Corecom sono nati in un momento istituzionale in cui erano presenti i temi dell'emittenza elettronica, televisiva e negli ultimi anni c'è stata un'esplosione gigantesca. Cioè Facebook che oggi ha 30 milioni di utenti in Italia, sette anni fa ancora non esisteva, quindi vuol dire che siamo passati in sette anni da zero a 30 milioni. Tutto questo pone giganteschi problemi di privacy, di regolazione, regolamentazione. Io penso che è maturo anche questa vicenda di questa ragazza di Napoli, ci fa capire che è urgente intervenire, non è possibile che lì sia uno spazio franco. Le televisioni devono avere tutto a posto, tutto preciso, tutto controllato, tutto vigilato, come peraltro noi facciamo come Corecom, ma invece la rete sia il luogo dove ognuno può dire tutto, è il contrario di tutto.